ciao ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi andremo a fare un tutorial in collaborazione con la bbcraft messo tra un assemblaggio e pochissima tessitura vi voglio ricordare il codice coupon che la bbcraft mi mette a disposizione che lucrezia 10 ed equivale al 10% di sconto sul totale vi ricordo anche che con 25 dollari di spesa la spedizione è gratuita quindi vi conviene sempre raggiungere quella soglia allora vi voglio far vedere prima degli orecchini che ho preso appunto per questa collaborazione con la bbcraft questi orecchini in acciaio che sono a scatto vedete ci sono di diverse forme sia in oro che in argento io ho semplicemente inserito questa goccina a forma di bocciolo che adoro ve li faccio vedere se qualcuno di voi è interessato ad acquistarli allora questi sono gli orecchini e questo è il codice arrivano in questa box e sono di diverse forme come potete vedere c'è il quadrato il triangolo sia dorato che d'argento e poi anche rotondo anche dorato però non ce l'ho più quello dorato ho fatto un piccolo regalino a natale vi rifaccio vedere il codice e poi queste goccine a forma di bocciolo che io adoro perché sono fatte veramente bene sono veramente stupende questo è il codice invece per quanto riguarda il tutorial andrò ad utilizzare questi braccialetti braccialetti anzi non vi faccio vedere l'altro prima questo questi braccialetti che ho preso appunto la bbcraft qui ho utilizzato delle pietre di corniola lavorate semplicemente ro con questi distanziatori che sono placati in oro 18 carati ho preso sempre dalla bbcraft invece oggi andrò ad utilizzare questo piccolo elemento fatto in tessitura sempre ro dove utilizzerò i lapislazzoli le pietre di lapislazzoli che sono da 8 mm e poi ho intenzione quindi ne farò un altro di questo e al centro andrò ad utilizzare questo componente che è l'albero della vita in questo modo allora per quanto riguarda questi bracciali arrivano in questa scatolina e questo è il codice per l'albero della vita questi elementi arrivano sempre in questa box ci sono sia dorati che d'argento di diversa forma e sono sempre in acciaio e questo è il loro codice per questo vi ho detto che ho utilizzato questi distanziatori forma di rondella vedete e sono questi sono placati in oro 18 carati e l'ho presi sempre dalla bbcraft e questo è il loro codice quindi adesso andrò a fare l'altro elemento di per questo bracciale quindi utilizzerò delle pietre di lapislazoli da 8 mm metti a fuoco che ho in questa box vedete sono queste serviranno anche due perle da 4 mm sono da 4 mm delle rocai 80 color dorato e filo e userà un far line da 0 15 poi naturalmente serviranno degli anellini di congiunzione sarà questo che mi servirà per l'altro elemento e poi due più piccolini per unire questo elemento a forma di albero della vita questo è tutto il materiale che servirà quindi adesso mi preparo tutto e ci mettiamo subito all'opera un abbraccio a tutti ciao inizio inserendo le quattro perle da 8 mm sul filo e poi vado a ripassare all'interno facendo un paio di giri per stringere bene il lavoro anche perché si tratta di pietre dure ora faccio un attimo il nodino in modo da chiudere bene e poi ripasso di nuovo all'interno tiro bene il filo e faccio un altro giro ora vado a tagliare questo pezzettino in eccesso e adesso prendo una 80 e mi inserisco nella prossima perla di nuovo una 80 e mi inserisco nella prossima perla e continuo così fino alla fine ed ecco qua ora portatevi ad uscire da una 80 inseriamo sul nostro ago altre 5 sempre 80 da questa ci inseriamo nella prossima e poi li porteremo in avanti di nuovo 5 80 e ci inseriamo nella prossima altri 5 e ci inseriamo nella prossima e facciamo così anche per l'ultima perla ed ecco qua vedete tutti questi archi mi raccomando tirate bene perché poi noi li dobbiamo portare sul davanti all'interno sto uscendo sempre dalla 80 questa centrale tra le perle ora mi inserisco nelle prime nel primo arco nelle prime 3 80 80 qui prendo una perla da 4 mm e mi inserisco nel prossimo arco nella rocaille centrale e tiro bene il filo ora mi inserisco le ultime due tirate bene il filo mi raccomando ripasso in quella centrale e mi porto nella terza la rocaille del prossimo arco e qui faccio la stessa cosa prendo una 80 una perla da 4 scusate e mi inserisco nell'ultimo arco nella rocaille centrale vedete e tiro bene il filo in questo modo ora rientro nelle ultime due faccio di nuovo il giro rientro in quella centrale risalgo nelle prime 3 e dentro nella perla da 4 tirate bene mi raccomando ora qui prendo una 80 e mi inserisco direttamente nell'altra perla da 4 dallo stesso lato naturalmente e tiro bene il filo di nuovo un'altra 80 e ritorno indietro rientrando nella perla da dove sono partita e tiro bene vedete questo è tutto ora quello che dobbiamo fare è soltanto ripassare di nuovo in tutte le due perle e le due rocaille abbiamo appena inserito ed ecco qua il nostro elemento è terminato molto semplice ora devo soltanto agganciarlo con gli anellini al bracciale io inserirò direttamente l'anellino nella 80 quindi vado ad aprire il panellino e lo inserisco da un lato nella 80 e poi lo aggancio al bracciale e questi sono i due elementi ora devo inserire l'albero della vita è uguale sia da una parte che dall'altra inserirò sempre gli anellini all'interno delle 80 da un lato e questo dall'altro assolutamente Grazie a tutti. Ed eccolo qua, il nostro bracciale. Questo è l'altro. Come avete visto è molto semplice e potete farci quello che volete. Facendo, inserendo anche altri elementi in tessitura o elementi in lega, in acciaio, come volete. Questi sono i due bracciali, come avete visto semplicissimi, si fanno in un attimo e sono comodi anche. Io spero che vi sia piaciuto. Per il momento io vi saluto, vi ringrazio e vi mando un grosso abbraccio. Ciao a tutti.